Salve amici del Centro Meteo Italiano, settimana che sarà prevalentemente influenzata da questo anticiclone disteso tra penisola iberica ed Europa orientale passando per il Mediterraneo centrale. Con l'avvicinarsi del prossimo weekend però potrebbe arrivare un nuovo peggioramento meteo. Il modello GFS propone l'arrivo tra venerdì e sabato di una perturbazione dall'Atlantico, in grado di portare una fase di maltempo soprattutto al centro nord con piogge e neve sulle montagne. Passaggio di una saccatura atlantica confermata anche dal modello europeo ma decisamente meno intenso. Per l'inizio della terza decada di gennaio entrambi i modelli mostrano un vasto anticiclone rimonta verso le isole britanniche mentre tra Europa orientale e Mediterraneo potrebbe restare attiva una circolazione depressionaria con aria più fredda da est. Per ulteriori dettagli seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale youtube. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.